Importante operazione a Tindrangheta condotta dai carabinieri del comando provinciale di Catanzaro con il supporto dello squadrone eliportato Carabinieri Cacciatori e dell'ottavo nucleo di elicotteri del territorio dei comuni di Chiaravalle, Torre di Ruggero. Colpita la cosca Iozzo Chieffari con 17 ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro su richiesta dalla direzione distrettuale antimafia della città capoluogo. Come detto, i carabinieri hanno messo fine l'attività di questa cosca di Indrangheta assicurando alla giustizia persone appartenenti al gruppo criminale o presunti fiancheggiatori. L'accusa parla di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e distorsioni. L'operazione è stata denominata Ortus dalla figura mitologica del cani a due teste proprio perché sono stati raggiunti dal provvedimento restrittivo i due presunti capi, ovvero Antonio Chieffari e Mario Iozzo. Nel corso dell'operazione inoltre sono state effettuate delle perquisizioni che avrebbero permesso il rinverimento di armi anche di grosso calibro. È un'indagine piena di riscontri, non fosse altro per le armi che ci sono dietro alle nostre spalle, che sono state all'arsenale, che è stato trovato questa notte a armi da guerra, esplosivo, kalasnikov, silenziatori, quindi tipiche di un'associazione delinquere di stampa mafioso importante, di un locale di indrangheta importante, che hanno ovviamente, come tutti i locali di indrangheta, hanno il loro arsenale, hanno il loro munizionamento, le loro armi per le guerre che ciclicamente possono investire i locali di indrangheta.